Una categoria a parte dei verbi latini è costituita dai cosiddetti verbi anomali o, come altri li definiscono, atematici. Perché anomali o atematici? Anomali perché presentano delle anomalie nel paradigma e quindi di conseguenza nella flessione, atematici perché spesso molte forme sono prive della vocale tematica regolare. I verbi anomali in latino sono i seguenti, è importante conoscerli perché sono di uso molto molto frequente. Uno, il verbo sum, il cui paradigma è sum, es, fui, es e aggiungiamo i suoi composti. Poi ferro, il cui paradigma è ferro, fers, tuli, latum, ferre e i suoi composti. Volo, vis, volui, velle e i suoi composti che risultano essere nolo e malo. I paradigmi sono nolo, non vis, noli, nolle, malo, ma vis, malui, malle. Altro verbo anomalo che va aggiunto a questi è edo, mangiare, edo, edis, edi, esum, edere. E infine, eo, is, ivi, itum, ire. Ultimo verbo anomalo che però assume in sé anche le prerogative di un verbo a metà deponente è fio, il cui paradigma è fio, fis, factus, sum, fieri. Come vedete sono verbi di uso, abbiamo detto, frequentissimo nella lingua per cui vale la pena conoscerli ad uno ad uno. Il verbo sum è il verbo essere, quindi il verbo servile per antonomasia, il verbo essere, il quale, essendo irregolare, va esaminato a sé stante. L'indicativo, come tutti gli altri verbi, ha sei tempi. Andiamo al presente. Il presente del verbo sum in latino sarà sum, es, est, sumus, estis, sunt, che significa appunto come il nostro italiano io sono, tu sei, es, egli è, eccetera. Perfetto. Il perfetto di sum è fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Attenzione, fui, come tutti gli altri verbi, ha tre significati in italiano. Può significare io fui, passato remoto, ma anche io sono stato, passato prossimo, e anche io fui stato, trapassato prossimo. Futuro semplice. Futuro semplice del verbo sum è ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Io sarò. il tempo corrispondente storico. Il tempo corrispondente storico del presente è il perfetto, del futuro semplice è il futuro anteriore, o futuro secondo, come già detto, che si forma dal tema del perfetto, il futuro anteriore, il latino del verbo sum è il seguente. Fu, tema del perfetto, più ero, fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. Io sarò stato, futuro anteriore. Futuro anteriore è futuro semplice. Presente e perfetto mancano soltanto il sistema dell'imperfetto, io ero, che in latino del verbo sum farà eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Io ero. Il cui tempo storico corrispondente è il più che perfetto, che in latino del verbo sum suona fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant. Questa sistemazione a prima vista anomala delle forme del verbo sum nel suo complesso nasce da una esigenza di facilitare il compito agli allievi di ricordarlo, nel senso che ho accoppiato il presente e il perfetto l'uno tempo storico dell'altro, io sono, io sono stato. I due futuri, futuro semplice e futuro anteriore, io sarò, io sarò stato. E dall'altra l'imperfetto col suo tempo storico corrispondente il più che perfetto, che è appunto fueram. In questo modo si trova una maniera diversa, magari meno consueta, ma spero più incisiva per ricordarli. Il verbo sum poi ha nel congiuntivo, come tutti gli altri verbi, quattro tempi. Il congiuntivo presente, che del verbo sum farà sim, sis, sit, simus, sitis, sint. Che io sia, che tu sia, che egli sia, esattamente come in italiano. Grazie.